Fai un salto anche tu da Genivvlog, link è in descrizione per trovare, scaricare e installare la patch di Inazuma 9 con Galaxy Big Bang in Supernova, ovviamente tutta in italiana. Sotto in basso, spoiler, troverete gli archivi da scaricare, qua troverete come installarla, link è in descrizione e godetevi tutto quanto. Bella con i ragazzi, sono Monkey, sono tornato con un nuovo video dopo quasi una settimana perché ho avuto problemini fisici e temporali, temporanei, temporanei, vabbè no, temporali perché del tempo, beh, comunque siamo rimasti nello scorso video che era apparso dal cielo, dallo spazio, lo stagio stellare e dovevamo appunto sul pianeta Silica affrontare i Silicani per prima partita del Celesta Galaxy. Io adesso non ho avuto molto tempo per allenarmi, ne ho fatta una di partitella prima così per prendere un po' di esperienza in più, infatti Victor ha imparato tiro soprannaturale e basta appunto, benvenuti nel mondo del calcio cosmico, caloroso benvenuto a tutti, il glorioso Gran Celeste Galaxy sta per avere inizio, io Dax Gun sarà il vostro teleconista per questo torneo, bellissimo. Ok, avevamo Zac e avevamo preso anche altri 11 titolari, cioè sostitutiche fantastici che io adoravo, aspettavo Byron Love per sostituire da Cerise. La grafichina non è cambiata, perché mi sono dimenticato, però vediamo se posso mettere la squadra che voglio senza dover mettere per forza Cerise e altri, per esempio JP. Quindi vediamo che succede, se non succede nulla, se non mi obbliga a mettere nessuno, metterò poi dal re dalla prossima partita, ci voglio. O meglio, metterò la grafica con la squadra redefinita, diciamo così. Se perdiamo la partita, perderemo anche il nostro pianeta, certo, quindi dobbiamo toglierci la pagliettina dal sedere e battere anche i Selicani. Selicani che hanno in rinforzo un giocatore da Falamorbius. Ci siamo, la prima partita sta per iniziare. Inoltre sembra che Iron Sherwin stia in possesso della pietra rossa, giusto? Tutto come previsto, sembra che sia lui il prescialto. Molto bene, continuiamo a monitorare la situazione. Ok, ma prescialto per cosa? Di cosa? Di chi? Non lo so, si scoprirà strada facendo. Eccolo lì, quello con la chioma arancione. Ok, si giocheranno lealmente, cioè... Hogar, eccolo qui Hogar. Per la sopravvivenza di entrambe le squadre. Vediamo che succederà. Non c'è nessuna regola che vieti di annoverare fra i propri giocatori e anche gli individui stranieri. Ok. Una specie di loro alleato. Esatto Victor, esatto. No, era proprio giusto stranieri, ma in questo terreno ci sono limiti riguardo all'attività delle aure. All'attivazione, scusate. Se posso permettermi, non so se le vostre aure saranno in grado di contrastare le loro. Che comunque dovremmo essere, se non sbaglio, a livello 22. Perché sono saliti tutti a livello 21, mi sembra. Non so loro che livello sono. Ecco, vediamo un po'. Va bene, va bene. Andiamo subito alla partita senza altri indugi. Bene, allora siete pronti a combattere? Certo, Karan. Certo. Anche perché se non combattiamo... Mette Territrina, Zack in campo, IGP in panchina. Ok, quindi appunto... Non cambia il fatto che Cerise in teoria sia fuori. Cioè che poi ci sta Axel, che ci sta Frodita in teoria e così, no? No, devo mettere Zack. Ne mettiamo Zack al posto... Non lo so. Vabbè, al posto di Quagmire, dai. Ah, comunque mi sono ancora un po' allenato. Ah, devo togliere IGP dalle balle. Quindi Quagmire possiamo lasciarlo. Mi sono ancora un po' allenato. Infatti siamo a livello 24 totale con la squadra. Ok, così è perfetta. Non esagerati. Ma neanche troppo scarsi. Non so che livello è la squadra... Dei Silicani, quindi... Vediamo un pochito. Ok, Karan. E c'è dentro Hogar anche. Hogar si chiama, ne? Boh, non mi ricordo. Sto registrando io? Sì, sto registrando. Meno male. Dall'altra parte l'Hertelha è la vincitrice del blocco A delle qualificazioni. Ok, dai, dai, dai. Sì, siamo carichi. Forza, ragazzi. La nostra prima partita intergalattica comincia adesso. Ok, ci può stare. Ci può stare. Loro sono a livello 25. La formazione è questa. Mi sono dimenticato di fare la grafichina. Perché non sapevo appunto... Ma mi sembra che ve l'ho già detto prima. Ci siamo. Il Gran Celeste Galaxy, il torneo che deciderà le sorti della galassia, sta per avere inizio. Chi vincerà la prima battaglia? Ovviamente la Earth Eleven. Perché se no, il pianeta scoppia tutto quanto. Mi raccomando, ragazzi, fate attenzione quando attaccano. Li fermeremo. Certo. Come no. Le ultime parole famose. Ok. Non passerei mai da qui. Lasciate fuori me. Martello del deserto. La Madonna. Sarebbe questa la forza della rappresentativa terrestre? Siete ridicoli. Va bene, ragazzi. Ricordatevi che c'è in gioco la sopravvivenza del vostro pianeta. Non abbiate pietà. Ah, quindi ha un po'... Come si dice? Eh, capito, no? Dai. Boom. Che stai facendo, Hogar? Smetti di ordinare i miei compagni di giocare sporca. Infatti, li sta un po'... Non mi viene la parola. Comunque, quella roba lì. Vabbè, comunque, Hogar ha la testa invincibile. Molto bene. Perché è scarso in culo e non è capace a segnare normalmente. Va bene, Hogar. Schiacciaci uno a uno. Che novità. Ecco. Ma povera Trina! Ma non puoi dar... Non puoi dannare la testata ad una donzella. Piccolina come Trina com'è? Missile di sabbia. Bello. Bello il tiro. Ok, artigli di guardia. E famo gol. Cioè, fanno gol. Benissimo. Benissimo. Hogar, non essere sconsiderato. Che senso ha vincere con un gioco crudele come quello? Per me invece questo è un gioco tranquillo. Tutto nella norma. Quindi immagino che... Lui faccia parte della squadra di... Della regina. Di Falamorbius. Perché se arriva da Falam... Accidenti hanno superato gli otti. Gli riguarda troppo facilmente. E i Terri non è questo momento di mollare. Giusto Riccardo. Bravo. Tutti loro. Hanno delle facce così cattive. Accidenti. Se loro si comportano così... Allora lo farò stesso anch'io. Eh no, buddy. Voi siete gli unici amici che io... Abbia mai avuto. Prima di conoscervi... Gli unici nemici... Erano alla frustrazione. Fastidio Novese e tanti altri ancora. Trina mi dispiace. Non può funzionare. Sono tutti così sotto pressione. Tanno riuscito a giocare bene come al solito. Esattamente, Zack. Ciò di cui... Questa partita ha bisogno un po' di pepe. Non sei d'accordo anche tu, Sky? È l'allenatore. L'allenatore sta aspettando qualcosa. La squadra però non sembra particolarmente in forma. D'accordo. Eh, sapevo che l'avrebbe detto. Così, ok. Chi uscirà? Uscirà Falco. Ehi, Trina. Chi ti fa più paura dei giocatori di Silica? Quell'aiutante e anche il capitano. Capito. Beh, allora ti insegnerò io come difendere contro di loro. In poca parola è come giocare a palla avvelenata. Loro cercano di colpirti. Ma se tu sarai in grado di rubare la palla, loro avrai vinto. Fidati di me. Tu puoi difendere contro chiunque. Che cosa c'hai in mente, Zack? Non, 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 non lo so. Questo è lo spirito giusto, Trina. È come giocare a palla avvelenata. Io sono qui per poter leggere i miei amici. I miei veri amici. Fuori mio spirito, dammi il tuo aiuto. Metti, Zack, e Trina in campo. Vabbè, certo, ovvio. Facciamo levare falco alle palle, via. Ok. E vediamo che succede. Sono veramente curioso. Ah, ok, appunto. Dobbiamo riempire la barra di avanzamento. Vabbè, vediamo. E allora, modo più semplice per riempire questa barra di avanzamento con un tiro soprannaturale. Nuovo tecnica per Victor. Che l'ha imparata toccendo delle amichevoli. Bello, 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 bello questo tiro. Vediamo un po' gancio di sabbia. Mmm, 300 di potenza quel poso aveva. Fortissimo. Allora, se non va un tiro soprannaturale, proveremo una stoccata invertita. Versione 2. In teoria non ha più punti tecnica. E infatti? E infatti! Pring goal. 1-1. Partita che ritorna in equilibrio. Barra completata. Perfetto, senza troppi sforzi. Vediamo che succede, dunque. Ok, parla per Trina perché sono curioso e vedere che succede. I miei compagni di cosa sono ancora distratti. Vorrei dire che ci pensano io. E tu cosa pensi di fare con un corpicino così piccolo? Ti schiaccerò in meno di un secondo. Martello del deserto. Ok. Ok. Ecco, niente, ha perso palla. No, non mi arrenderò. Io proteggerò tutti i miei amici. Oh! Cosa? Un totem terrestre? Lo sento. Sento il potere della bestia che è in me. Totem. Oh! Ho sbloccato il totem! I totem sono gli animali che risiedono nei geni dei due giocatori. Usali per aumentare le forze. Vuoi attivare un totem premendo il pulsante Aura come per gli spiriti. Ok. Una volta evocato un totem compariranno la barra del livello e dei punti anima al posto dei piedi e dei pt. Ok. Utilizzando una tecnica verranno consumati punti anima e il totem svenirà quando i punti anima scenderanno a zero. Oh! Ottimo! Più alto sarà il livello del totem maggiore sarà la sua potenza e il numero di punti anima a disposizione. Ok. Ok. Il livello si fa... superando gli avversari sostanzialmente. Inoltre la barra del livello si riempirà con il tempo poco a poco anche senza scontri diretti. Con il potere animaleschio del totem avrà a disposizione una potente mossa all'assalto totem. Vuoi essere usato in diverse situazioni ad esempio per tirare o dribblare. Ok. Va bene dai sono curioso di vedere che succede adesso. Ok. Quindi facciamo abilità totem. Andiamo un po'. Roulette totem. Adesso schiacciare. Fallimento. Che senso? Dio bellissima. Fantastica. Wow. Trina della Earth Eleven ha svegliato il suo totem. È una creatura terrestre. Una volpe per la precisione. Bello. 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 Ecco cosa voleva dire Zack entrando in campo. Maledata terrestre. Schiacciare a quel tuo totem insieme a quel tedeuro per il corpicino che ti vedrai. Brava Trina. Così si è risvegliata. Palla di nuovo a Victor che non ha più punti tecnica. Allora palla ad Arion che è scarso a tirare perché ancora non mi impara un tiro nuovo nonostante sia a livello 24 porca miseriaccia. 121 no c'è no e invece no va bene Arion come non detto 2 a 1 e portiamo in vantaggio la Earth Eleven. Ok allora Arion in teoria con l'evoluzione 2 perché è aumentata dovresti farmi la doppietta 134 di potenza totale 125 e facciamo un'altra doppietta 3 a 1 magico signori magico finiamo dunque qui il primo tempo perché è finito infatti perfetto vabbè continuiamo così tanto è finita perfetto 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 3 a 1 magico risultato per fantastico sei stata fantastica Catrina hai risvegliato il tuo Totten beh anche io sono rimasto un po' sorpresa a dire il vero effettivamente siamo rimasti un po' tutti sorpresi tra tutti quella un po' più scrasetta va bene lo stesso a questo punto voglio essere curioso di sapere che Totten c'ha Catrice vabbè vediamo un solo cuore allenatore black la prego mi faccio giocare nel secondo tempo non se ne varla nel secondo tempo il portiere sarà ancora d'arri povero tempo povero jp lo sapevo cara nei tuoi metodi sono troppo diaboli sei ancora sicuro di vincere tanto il tuo gioco vediamo un po' basta così hogar stai giocando in un mondo tutto scorretto guarda la rd 11 loro si che si stanno battendo lealmente e con coraggio e noi invece come possiamo anche solo pensare di difendere il nostro pianeta giocando così cosa fa cosa fa hogar se ne va proprio così anche se dovessimo vincere questa partita ce ne pent anche se ah ok perché giocando realmente ce ne pentiranno giusto quindi ci sta dicendo ci abbiamo svedato tutto sin dall'inizio eeeh hogar oh bene hogar se ne va e diamo quindi dunque all'inizio del secondo tempo perché sono curioso di vincere sono devo andare avanti dobbiamo andare avanti fantastico bene hogar ha sbloccato una salamandra oh credo sia una salamandra si immagino di si questo avvi bello cos'è un tiro non dribbling bello eccala è invincibile te pareva ok vediamo che succede eccomi vi mostrerò il potere del mio totem adesso faranno il 3 a 2 sicuro a meno che Terry non fa una parata mega superforte che forza non è neanche lontanamente simile al tiro di prima Terry è come se i suoi movimenti stessero rallentando Terry non sforzarti troppo se ti sforzi troppo il tuo corpo ne ne sentirei non potrai aiutare la tua vera forza calma ti gioca come al solito oh JP motivatore parata del cestista versione 2 e la pariamo così magico ottimo 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 bravo JP sono sicuro che arriverà anche il tuo momento io credo in te JP fantastico va bene sto registrando sì Terry crede in me ma cosa stavo facendo siamo compagni di squadra eppure riusciva solo a pensare di doverlo battere va bene giusto giusto diventeremo forti insieme tutti quanti raggiungeremo la vetta vabbè e che fai te ne privi di una tripletta di Arion così dai no non ce ne se ne priva non ce se ne priva ah però fa gancio di sabbia me la farà e allora niente fa niente dai vede lo stesso ora c'è da avanzare alla barra non so cosa potrà succedere vediamo un attimo come va Zack a tirare con un colpo Kabuki vediamo un po' riuscirà a battere il portiere riuscirà a siglare questo gol 203 di potenza 189 magico magico questo giocatore 4 a 1 incredibile li stiamo asfaltando i sinicani li stiamo asfaltando si c'è l'armatura di Victor giusto per veloci sare un po' le cose abbiamo avanzato pure la barra oh vediamo che succede parla per Zack io sono solo un normale cittadino senza nome ma ora è il momento di salire di livello danza del leone dello stile avalon osservate tutti attentamente cosa sto facendo oddio il totem il leone no bellissimo è il re degli animali i leoni minchino a lui minchino a lui arrivo veniamo un po' ok ci sta con quale maestria che velocità colui che riuscisse più forte di tutti è proprio Zack che magia Zack aveva già risvegliato i suoi poteri per poter svolgere il ruolo del leone ah quindi era tutto troppo semplice per Zack per risvegliare il suo totem c'era bisogno di qualcuno che lo innescasse ecco perché voleva che fosse tutti i costi un membro dell'Earth 11 va bene va bene ecco che Zack avalon conquista il palcoscenico state bene a vedere state bene a vedere non si dice vabbè che sti cazzi e ora tiriamo tiriamo col colpo kabuki con l'abilità del leone cioè quanto facciamo ah 271 vabbè 256 comunque tanto di cappello segniamo no ah forse avrei dovuto usare il totem allora tiriamo usiamo l'abilità del totem fallimento non capisco che voglia dire va bene però il tiro del leone 480 altissimo così segniamo pure con Zack magico magico e finisce qui dunque 6 a 1 perché abbiamo fatto un altro go con Victor giusto per però non era il caso di farvelo vedere 6 a 1 la Silchia 11 a livello 25 vediamo un po' eeeh Terry a livello 31 l'unico che ha superato il trentesimo livello magico bello 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 contro diretto non so se è una mossa o un qualcosa per aumentare un po' la le stamine e gli attributi però è stato fantastico abbiamo giocato mi sono divertito una marea è finita la Earth 11 vince il primo turno dalle gran celeste galaxy e avanziamo dunque così il nostro tragitto il nostro percorso abbiamo appena fatto il primo passo verso la salvezza del nostro pianeta le prossime fide saranno ancora più difficili di questa ma neanche noi siamo soddisfatti perché comunque la silica 11 verrà comunque distrutta esattamente il nostro pianeta verrà distrutto eeeh si oh ora capisco la gente di questo pianeta eeeh già Karan vediamo che ci dice congratulazioni per aver superato il turno sono contento di aver combattuto con voi in modo leale si ma voi Karan non ho rimpianti per questo risultato abbiamo difeso l'orgoglio di silica dobbiamo accettare il nostro destino eeeh si purtroppo purtroppo o noi o loro comunque non possiamo far non possiamo far niente osrock la heart 11 ha vinto la prima partita che vuoi meteo o no chi è globulus osrock come è potuto accadere mio caro globulus ti comunico gli ordini della regina di falamorbius c'è un giocatore della heart 11 di nome victor blade dovresti portarlo a roleia spero che ciò non ti arricchi disturbo cioè quindi dovremmo giocare tra victor vabbè non è che non abbiamo giocatori però victor ci serve a noi dovrei chiederti un favore meteo dovresti rubare un giocatore ma che vuoi che sia insomma eh eeeh no tutti piangono no il nostro pianeta sta per essere distrutto heart 11 è solo colpa vostra eeeh si eeeh non esco neanche a gioire per la vittoria nessuno gioisce per la vittoria bene siamo dunque tornati sull'orion express anche perchè abbiamo finito qui noi non abbiamo nient'altro da fare se non magari qualche amiche ole ma c'è qualche partiteta ma è meglio giocare alle amichevoli quelle classiche anche perchè abbiamo più esperienza su tutti i giocatori soprattutto tutti insieme e abbiamo anche tecniche che possiamo prendere comunque tutti distrutti tutti desolati attenzione attenzione aspetta oh chi è ciao chi è un attimo sono te non mi riconosci oddio ci stanno scambiando victor quindi noi adesso abbiamo un victor cattivo niente male ma chi è questo victor però ah cribbiolina il compito assegnato ti dalla regina è un po' bizzarro ma non dovresti avere problemi ti ascolto invia il falso victor alla earth level e non perdono d'occhio oddio ma che cosa cazzuta aia e victor è ora di andare sì vediamo dunque se si farà scoprire questo falso victor dove stiamo andando contro la rovescia su un altro pianeta dunque che non so quale sia 3 2 1 curvatura attivata ok su quale pianeta andiamo dunque ah ok su nessun altro pianeta se continueremo a vincere tutti i pianeti che sconfiggeremo ci saranno di esistere con la nostra vittoria di oggi la terra è salva almeno per ora però eh o che succede piku un'altra volta no pixie non piku ho sbagliato cosa di nuovo oddio questa è la tizia del sogno sembri molto gentile ok è catora ok però perché solo in sogno appare ho qualcosa da dirti ecco vedi esiste una soluzione per salvare tutti i piedi della galassia attenzione cosa 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 unisciti a me ti darò il potere necessario per salvare tutta la galassia si ma è tutto un po' complicato cosa la pietra cosa fa la pietra questo è uno dei frammenti della speranza sono pietre uniche nel loro genere sparse per tutto l'universo esatto tutto ciò che devi fare è trovarli e portarmeli ok ma dove ti trovi sono quattro trovali tutti e portali da me adesso devo andare a presto no ma aspetta aspetta un attimo devi farci un quadro della situazione più chiaro più chiaro catora 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 quindi tu la vedi solo nei tuoi sogni capitano sicuro che sento la sua voce sono sicuro che stia cercando di aiutarci questa pietra ne è la prova non credo a ciò che dice eccola glasia che vole glasia mo vediamo un po' il pianeta eclissus è stato distrutto tempo fa non è possibile che qualcuno ci stia contattando da lì beh ecco io ero un abitante di quel pianeta quindi un alieno oppure glasia sono un extraterrestre oh oh e finisce qui dunque il capitolo cinque quattro sei boh non mi ricordo a che capitolo siamo arrivati però abbiamo sbloccato due totem fantastico e abbiamo distrutto un pianeta che succede a falco adesso una persona partita devi assolutamente svegliare il tuo totem sì hai ragione ok quindi iniziamo il capitolo sette non scherziamo non mi fiderò mai di persone come voi oddio il lato negativo di falco certo che salviamo certo così vediamo a che livello arriviamo livello 24 livello 26 glasia tu sei un extraterrestre tutti facciamo fatica a credere dimostrarvi la mia vera identità oddio è il pupazzetto che c'era sin dall'inizio è morta glasia oddio no tranquilli sta bene sono perso coscienza buonasera a tutti buonasera buonasera che cosa un pupazzo parlante e tu cosa diavola saresti mi chiamo futmni emnator sembra una bestemmia però beh e non provengo da questo pianeta beh sono solo uno spirito e sono in controllo del corpo di glasia lasciate che vi spieghi tutto sin dall'inizio tempo della storiella tempo fa il mio pianeta fu distrutto a causa di un buco nero proprio all'ultimo momento sono riuscito a scappare fortunatamente sono stato l'unico a farcela io dopo essere fuggito il mio corpo ho smesso di vivere rendendomi in uno spirito bene quindi sì è un un fantasma sì esatto un fantasma che si è tipo reincarnato nel corpo di glasia sostanzialmente ok sono appena arrivato sul vostro pianeta ero completamente privo di forze ok giusto uno spirito deve trovare un corpo dove stare altrimenti svanisce vabbè giusto ci sta ah quindi glasia era tipo il fin di vita ah infatti sì non lo avevo ho usato le ultime forze che avevo per salvarla ah decisamente ho deciso di prendere in prestito il suo corpo per non rimanere attaccato per sempre al corpo di glasia mi sposto fra lei e questa bambola ah ottimo per quale motivo lo fai quali sono le tue prime intenzioni per molto tempo non ho neanche avuto delle intenzioni arrivato sulla terra non sapevo davvero cosa fare continuo solo a vagare tentamente fino a quando non ho percepito la presenza sul vostro pianeta di un altro extraterrestre di osrock esatto riuscivo a percepirlo sapete la terra è molto simile al mio pianeta natale ottimo allora il suo futuro adesso è nelle vostre mani dovete proteggerla ad ogni costo quindi è buono sostanzialmente si si chiamava eclissius quella catora che hai detto di aver visto era la principessa guarda che faccia brutto che ho iniziamo dunque capitolo 7 quindi sveglia di mio lato scuro si contro nai di nai di nai di nai di non l'ho neanche letto comunque contro l'acqua sostanzialmente catora era la principessa di eclissius si ok ok è possibile che la catora sia qui no è impossibile ok lo video con i miei stessi occhi tutte quelle persone e tutto il resto tutto 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 quanto quindi è stato risocchiato è per questo che la catora che conosci che hai visto vabbè non poteva essere reale quindi anche catora è stata portata via si ah e le allucinazioni bene le allucinazioni le cose brutte quando prendi md dopo quello che è successo sia eclissius che catora non c'erano più oddio glacia si sta risvegliando ma che che sta succedendo tu avanti spiegamelo oddio quando un controllo su un corpo la sua vera personalità si manifesta sembra avere qualche problema però non sembra che voglia sì in effetti minotauro minotauro sei sei di nuovo tumri quando la controllo lei riesce ad ottenere diciamo uno stato mentale più stabile ok accidenti uno ci avrà tipo 300 anni l'altro avrà 12 anni probabilmente oh vediamo che succede adesso con osrock qui tuttavia non dimentichiamoci che arian sharwin è in possesso di uno dei frammenti non preoccuparti di questo piuttosto cerchiamo di tenere sotto controllo anche l'estituzione victor eh eh infatti vediamo che succederà vediamo quindi catora è morta però il mio sogno sembrava così reale cosa dovrei pensare piku sei molto d'aiuto dicendo piku piku pixi tu per caso sai dimmi se catora sei viva o meno vabbè piku piku eh piku 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 ecco vedi devo continuare a credere a ciò che mi dice piku giustamente piku oh ok e i pixi dove stai andando pixi vedremo tutto nel prossimo video perché è durato tantissimo quindi sono contento che abbiamo vinto 6 a 1 siamo saliti di livello fantastico vabbè io adesso salvo per evenienza così se dovesse succedere qualcosa non succede nulla ci picchiamo un nuovo video link in descrizione per il geniforum qui da lì tani tutto bella a tutte